What's up everybody A parte che se per la media è negativa Ho fatto il mio account Ma si La fondi fa Tra se Au Vai 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 poneci Vai Scegliamo Lo Spas 12 Puoi spiegare ancora Ancora che non hai altre scelte Vai Vai pone Pona Io voglio usare lo stecchi alt Però qui Ehi Guarda qua Che qua Già piazzato Denti Claymore Ho messo 10 Di sensibilità Ti vuoi abbassarlo Eh meglio abbassare Ma dai Guarda che fai Vabbè io gioco in 10 No Non giocherai in 10 Io gioco in 10 Eh vabbè io sono pro Giochi in 10 Ah io far serio Ma pure te in 6 Cosa vuoi fare Fai in 2 Fai in 1 Una delle mappe più Cacchio Vediamo se riuscirà a fare una kill No è una kill Ti abbiamo Alla lare Basti Dai 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 Oh Qui abbiamo le impostazioni Uno al 3 Vai Abbiamo le impostazioni sballate Cambia Bravo No Com'è che Ho fatto tutto te No non l'ho modificato Come non l'hai modificato Comandi non tattici Metti quello predefinito Vedi anche lui gioca con quello predefinito Vai L'ha fatta apposta Se non l'avete Per chi non l'aveva capito Vedi l'ha fatta apposta Per fare questa kill Per fare questa kill Dai chiama Chiama il coso Ti è venuto fuori l'aeroplanino Si è suicidato Mamma mia il ponage Mamma mia che ponage Tanto vuoi rispiegare la cosa dell'intro No no non fare No Dai Qua la cosa dell'intro La cosa che regali l'intro E' il regalo l'intro Ma nessuno li vuole Attivi Dovevamo regalare i soldi Eccolo il pro Faggin noob Come ce l'hanno detto Non mi ricordo chi Aveva fatto il compagnia di classe Anche un compagnia di classe Ecco un pro Notare quando Dai non stai neanche giocando Fai il menu headshot Col pompa Su Vediamo Qua c'è un tipo Si beccherà una kill Era camperatista Dai tocca a me Gioca un po' io Su Sei troppo nudo Dai fammi giocare a me Ho fatto mezza kill Da mo' arrivo io Spacco tutto Col pompa Io ci gioco Opinioni su fan in range Ma poi un po' Un po' Per col pompa Secondo me va bene No Si Può andare bene Tutti contro tutti Stecchiato è più forte Pompa migliore? Ma dipende Pompa Pompa non è migliore Ma esatto Model di Modern Warfare 2 Model A Kimbo Ma in A Kimbo qua si può mettere Cosoli Non mi ricordo qual è il nome L'ultimo Ecco Faremo un po' di Minecraft Gioco rivelazione Uh Gioco rivelazione Minecraft 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 Ho detto Minecraft No Gioco rivelazione Magari faremo qualche gameplay Loro Perché a me fa pena Giochi spixelati Proprio non ci Ce l'hai fatto No È spixelato Però è divertente Minecraft Perché Si craft Perché c'è il crafting Arriva No Bello Vai zio Granata Notare la precisione Notare Eh si Notare la morte Inutile Uh Allora da conto è che non giocate Io ogni tanto gioco A A Modern Warfare 2 Alterno Dragon Age 2 E Modern Warfare 2 Io alterno nulla A cinema 4D Adesso però sto giocando un po' On front su PC Se volete vi metto i link Da dove l'ho No Dove l'hai comprato Realmente Sì Scusate E questo è il bello dell'i Il bello dell'i Ho comprato un mac nuovo Oh Notiziona Notiziona Vi vuoi giocare un po' te Con il mac nuovo ti ispira Lascia stare Non giocarci più Che se no poi il video viene male Perché tu giochi Noi noi Vuoi giocare tu Sì Bello dell'aria E le interproduzioni Cos'è Questo è il mac nuovo No Loro Questo mio padre Sono ricco Sono ricco Lurid Lurid Fuckin noob Fuckin noob Ah Il macbook Tu quando ti prendi il mac nuovo Che il tuo ha fatto la storia ormai Eh Abbiamo ancora la storia Sì Reggio tutti questi casi Reggio tutti i gameplay E questo è Fabio Potete vedere Che non fa una kill Fortissimo Non gioca tipo Abrile Cops Da Da un giorno Ma No Anche lui non gioca da un pacco Fortissimo E Fabio Non fare niente Eccolo lì Aspetta Poi si concentra Diventa pro Fai quick Atento che Fai quick Attenzione Guardate Ecco E' fortissimo C'è un certo Riccardo 95 Newb Che ora gli mandiamo un bel reclamo Sta facendo il culo Oh Non ho trovato uno Non ammazzo Vai 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 E' tuo Lascia stare queste cose Fabio Fai la kill normale Beh Basta È scomparso Dietro di te Dietro di te Ti fa il culo È scomparso Ma dai ma che fucile è Qua non vedi niente Mezzo schermo è occupato Dalla roba E' quello è il bello Eh Devi essere pro Per far la kill Se no Ma lo stake out Io non riesco a giocare Sparo un colpo Ma è un pro Devo passare otto giorni Tipo E' fortissimo E' l'elicottero Fabio non ci pensare Ora vai di lì Spacchi tutti Mi sta rovinando La mia Attento da dietro Da dietro Da dietro E' l'elicottero Che caro Gli elicotterazzi Fanno male Eh sì Stiamo perdendo a palla Stiamo parto Prendevamo un famasino Di devastare Lavo Attento che muori Ma perché Così Ma 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 l'hai vista Le claymore L'hai vista Ci sono le claymore Dai io Passa un po' Joypad Dai Porta elito Porta 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 Tiro sulla media Tata Guarda La prossima kill La faccio così Vai a giocare Eccolo Notare La proagine Tanto muovi Finisce Orca vacca Aiuto Mi sono lì Siamo fortissimi Eccola La grande partita Il ritorno Il ritorno Goodbye Goodbye Subscrivete Subscrivete Subscribe Il finale di merda Like Ciao ciao ragazzi Subscribe Subscribe Subtitled by Subtitled by Grazie.